La sindrome del saputello è molto forte, questa sindrome è molto sentita. Noi vogliamo capire se c'è una cura con il nostro professore che ci è venuto a trovare per cercare appunto di conoscere meglio questa patologia. La sindrome del saputello è quella sindrome di chi sa tutto su tutto, tutto su tutti e già dal primo mattino sa tante di quelle cose, addirittura le notizie. E che cazzo? Sì certo, davvero allucinante, solo che ci sarebbe però una cura alternativa, sì, una cura alternativa ci sarebbe. Mi coglioni, mi coglioni! E infatti la cura alternativa sarebbe che bisogna fargli notare qualcosa di suo, un fatto personale, un cappello fuori posto e l'unico modo per toglierselo dalle palle, proprio così. Grazie! Grazie! Grazie!